Ciao amici, come stai? Questo è il mio canale di recensioni di prodotti. In questo canale esaminiamo vari prodotti. Tutti i video delle recensioni sono di ottima qualità. E il 90% degli iscritti è felice di guardare i video sul nostro canale. Scegliamo il meglio. Prodotti dal mercato e tenere il passo con le recensioni. Spero piaccia anche a te. Se tu metti mi piace al mio video, assicurati di iscriverti al nostro canale. E dopo aver visto il video, lasciaci conoscere la tua opinione nella casella dei commenti. Se vuoi saperne di più su tutti i prodotti. Vedere il collegamento fornito nella casella di descrizione. Oggi ne parleremo. Le 5 migliori offerte PC portatili Media World. In questo momento iniziamo 5 dettagli del prodotto della migliore qualità seriale per seriale. Quindi guarda il video per. Visione del prodotto e ascoltare la tua migliore aspettativa. Inizia i dettagli del prodotto dei 5 migliori sul mercato. Descrizione del prodotto. Il display da 27 pollici con risoluzione WQHD 2560x1440 è dotato della tecnologia IPS per ampi angoli di visione di 178 gradi e immagini di gioco realistiche. La prima frequenza di aggiornamento di 165 Hz al mondo è la tecnologia NVIDIA G-Sync per immagini senza interruzioni e un gameplay fluido. Le esclusive tecnologie ASUS Ultra Low Blue Light, Flicker Free, Game Plus e Game Visual offrono un'esperienza di gioco confortevole. Supporto dal design ergonomico con inclinazione completa, rotazione, perno e regolazione dell'altezza per una comoda posizione di visualizzazione. Il monitor da gioco Rogue Swift PG279Q è costruito per la vittoria nell'arena di gioco professionale e presenta un pannello. IPS WQHD con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz. La tecnologia NVIDIA G-Sync integrata sincronizza la frequenza di aggiornamento del display con la GPU per una grafica fluida e un gameplay senza ritardi. Questo monitor presenta le ultime tecnologie e tocchi di design per renderlo un'arma indispensabile per tutti i giocatori appassionati. Impeccabilmente realistico. Visuale di gioca un display 2K WQHD da 27 pollici per immagini altamente dettagliate e più spazio sullo schermo. Il Rogue Swift PG279Q rappresenta un display di nuova generazione. Con un pannello WQHD 2560x1440 che offre 4 volte la risoluzione di 720p e 109 pixel per pollice. Puoi goderti maggiori dettagli dell'immagine e fino al 77% in più di spazio sulla scrivania rispetto ai display Full HD standard. Questi si sommano per darti un grande vantaggio nel gioco. Il monitor convenzionale da 27 pollici 1920x1080 mostra meno dettagli e spaziatura con meno spazio per le barre di lavoro sul lato. Le immagini sono relativamente più sfocate. Le immagini sono relativamente più sfiduato. Il monitor convenzionale da 27 pollici per le barre di del video. Il monitor convenzionale da 28 pollici per le barre di ruote. Il monitor convenzionale da 28 pollici per le barre di ruote. Il monitor convenzionale da 23 pollici per i costi 이번 recursionale. Molai le immagini sono relativamente più sfiduato. Il monitor convenzionale da 28 pollici per le barre di ruote che fuesto sul e aren turno share. Il monitor convenzionale da 23 Museo Terence. Dire although 11 openerатиtonale da 28 pollici per les soluつ guestiliari da 28 pollici per lire. Ingviato ora tells сп ledo il monitor abon�� HIS Grazie a tutti.